Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ogni giovane donna spera di avere un futuro lungo e brillante davanti a sé e magari sarebbe così se tutti i malintenzionati cessassero di aggirarsi lungo le strade. È l'agosto del 2013 e ci troviamo nello stato della Virginia, negli Stati Uniti, più precisamente nella località di Shipman, che si colloca nella contia di Nelson. Qui vive Alexis Tiara Murphy, la protagonista di questo caso, che ha 17 anni ed è nata il 5 giugno del 1996. La sua famiglia è composta dalla madre Laura, dal padre Troy e dai suoi due fratelli. Alexis è molto legata a tutti loro, i suoi cari la amano profondamente e la descrivono come una ragazza estroversa, capace di far sorridere chiunque grazie alla sua personalità vivace e divertente. Alexis, inoltre, è bellissima. Infatti, come raccontano i suoi parenti, quando entra in un nuovo ambiente, cattura lo sguardo e l'attenzione di tutti i presenti. Alexis è anche molto atletica, ama praticare sport, in particolare il softball e la pallavolo. È molto popolare al liceo, ha tanti amici e, come la maggior parte degli adolescenti, passa buona parte del suo tempo libero sui social media. Alexis, inoltre, è una piccola influencer, ha migliaia di follower su Twitter, ai quali adora comunicare come trascorre le sue giornate, postando un tweet dopo l'altro. Alexis Murphy è una ragazza solare, entusiasta del futuro che l'aspetta. Sta frequentando l'ultimo anno delle scuole superiori e non vede l'ora di andare al college. È il tardo pomeriggio di sabato 3 agosto, quando Alexis esce per comprare delle nuove extension. Vuole che i suoi capelli siano perfetti, perché presto le scatteranno la foto che la immortalerà durante il suo ultimo anno di scuola. La madre Laura le ha dato i soldi per acquistare l'extension, ma non sa che non potrà rivedere sua figlia mai più. Alexis, intanto, ha pubblicato un aggiornamento a riguardo sul suo profilo Twitter, scrivendo ai suoi seguaci che sta andando a Lynchburg, una città del centro della Virginia, a comprare queste adorate extension. Lynchburg non è molto lontano da Shipman, dista circa 30 minuti in automobile. Alexis è da sola in macchina, sta guidando la Nissan Maxima Bianca del 2003, che appartiene a suo padre Troy, il quale gliel'ha prestata. La ragazza, però, deve rispettare un coprifuoco stabilito da sua madre, che le impone di rincasare entro mezzanotte ogni sera. Tuttavia, è solo la mattina successiva che la famiglia di Alexis scopre che la ragazzina non è mai rientrata. Siccome sua madre Laura ha svolto il turno di notte al lavoro, non si è accorta dell'assenza di Alexis. È stata la nonna che vive con lei a notare il letto vuoto della nipote, quando si è alzata nel primo mattino di domenica 4 agosto, così ha riportato l'allarmante notizia a sua figlia Laura. E Laura si è preoccupata all'istante, perché Alexis non ha mai violato il coprifuoco in precedenza. Dunque, questo comportamento non le appartiene. Laura, inquieta, telefona a diversi membri della famiglia, parla con il marito, chiama una zia di Alexis, ma nessuno ha sentito la ragazza. Nessuno ha idea di dove sia. Suo padre Troy riferisce che anche la macchina che ha prestato ad Alexis non è tornata al suo posto. Tutti sono parecchio preoccupati perché Alexis non ha contattato proprio nessuno, non è mai arrivata nel salone dove era diretta e non ha nemmeno aggiornato i suoi profili social. Un fatto strano, considerando che lei è sempre molto attiva. Così la famiglia denuncia la sua scomparsa al dipartimento dello sceriffo locale. Mentre la polizia avvia le indagini per trovare Alexis Murphy, i suoi familiari ricorrono ai social media nel tentativo di diffondere maggiormente la notizia della sua scomparsa. Siccome la ragazza ha un seguito notevole, sperano così di riuscire a rintracciarla più velocemente. In effetti, grazie a questa azione, il caso ottiene ulteriore visibilità. Di conseguenza, molte persone si fanno avanti per aiutare nelle ricerche. Nel frattempo, la famiglia di Alexis prova e riprova a contattarla. Le invia messaggi costantemente e la chiama pregando che lei risponda. Ma purtroppo non succede. Anzi, le telefonate vengono deviate alla segreteria telefonica. Le zie di Alexis tengono anche una conferenza stampa in cui implorano il pubblico di aiutarle a trovare la nipote. Purtroppo, però, nessuno sembra avere informazioni da fornire. Dunque, la preoccupazione per la sicurezza di Alexis cresce sempre di più. Come sempre accade nei casi di persone scomparse, in una prima fase delle indagini, gli investigatori prendono in considerazione anche la possibilità che Alexis si sia allontanata di sua spontanea volontà. Forse era infelice e progettava di iniziare una nuova vita altrove. In realtà, fin da subito appare chiaro che questa è un'ipotesi più che remota perché, a detta di tutti, Alexis è un'adolescente spensierata, cresciuta in un buon contesto familiare. Lei non aveva problemi con nessuno, tantomeno con i suoi cari. Alexis non aveva alcun motivo per fuggire, quindi questa teoria viene presto esclusa. Mentre le ricerche continuano, a una delle zie di Alexis, Trena, viene in mente l'idea di utilizzare l'applicazione di ricerca per iPhone nel tentativo di localizzare il cellulare dell'adolescente. Inserisce quindi il numero della nipote nell'app Trova il tuo iPhone e riesce a ottenere un segnale che proviene da una cella vicino all'area rurale di Oak Ridge, che si trova a soli 10 minuti di distanza dalla casa della famiglia Murphy. Così la polizia e i parenti di Alexis raggiungono il posto e iniziano a guardarsi intorno, ma non individuano alcuna traccia di Alexis. Non trovano né lei, né la sua macchina, né il suo cellulare, il che è inspiegabile, dato che l'ultimo segnale intercettato tramite l'app proviene da quella posizione. Però la famiglia Murphy riferisce che conosce qualcuno che lavora proprio in quella zona, nella Oak Ridge Estate, una tenuta che comprende 4.800 acre di terra. La persona in questione è Abraham Gray, un ex fidanzato di Laura, la madre di Alexis. Gli investigatori prendono in considerazione che quest'uomo potrebbe avere qualcosa a che fare con la sparizione di Alexis, dato che aveva un legame con lei. Vanno dunque a parlargli e gli chiedono se avesse visto Alexis, se lei si fosse messa in contatto con lui, se abbia idea di dove sia l'adolescente. E, infine, gli domandano dove si trovava la sera in cui Alexis è scomparsa. Abraham risponde che non era nemmeno in zona nella serata del 3 agosto e che non immagina dove possa essere Alexis, visto che non ha parlato con lei. I detective, che ovviamente non possono credergli sulla parola, effettuano delle ricerche e la versione di Abraham viene confermata. Ha un alibi solido, non può essere coinvolto nella scomparsa dell'adolescente, quindi viene escluso dall'indagine. Ora la polizia è tornata al punto di partenza perché quello che sembrava un inizio significativo si è trasformato in un vicolo cieco. Per intensificare le ricerche di Alexis, il dipartimento di polizia locale sa che ha bisogno di aiuto, così coinvolge sia la polizia di Stato che l'FBI. Nel giro di pochi giorni, circa 200 agenti federali vengono assegnati al caso di Alexis e ancora più numerosi sono gli agenti di polizia locale. Un elicottero ispeziona la zona dall'alto per sfruttare una visuale più ampia. Poi entrano in azione anche i cani che tentano di fiutare l'odore di Alexis. Tutti lavorano sodo per ritrovarla. Tre giorni dopo la sua scomparsa viene individuata l'auto che suo padre Troy le aveva prestato. Si trova nel parcheggio di un cinema a Charlottesville, nella contea di Albemarle. Eppure Alexis era diretta a Lynchburg, la sera in cui è sparita. Charlottesville si colloca nella direzione opposta. Quindi perché la macchina guidata dalla diciassettenne è finita nel parcheggio di quel cinema? I detective esaminano l'automobile con il timore di trovare il corpo senza vita di Alexis all'interno del bagagliaio del veicolo. Ma di lei non c'è alcuna traccia, né rilevano tracce di sangue o di colluttazione. Dunque è stata Alexis ad abbandonare la macchina nel parcheggio? E in tal caso, perché? Oppure è opera di qualcun altro, del responsabile della sua scomparsa? I detective si avvalgono nuovamente dell'aiuto dei cani poliziotto per cercare di captare l'odore della persona che ha lasciato l'automobile nel parcheggio del cinema al fine di capire in quale direzione potrebbe essere andato. I cani iniziano a dirigersi verso un complesso di appartamenti lì vicino e uno di loro viene attirato da una porta specifica di un edificio. La polizia, quindi, parla con gli inquilini di questo appartamento, ma viene stabilito quasi immediatamente che non sono coinvolti, neanche conoscono Alexis. Gli investigatori, allora, rivolgono di nuovo la loro attenzione alla macchina perché il detective a capo dell'indagine vuole scoprire esattamente da quanto tempo l'automobile guidata da Alexis si trova fuori dal cinema. È stata abbandonata di recente oppure si trova in questo parcheggio dal giorno della scomparsa della ragazza? La polizia, in cerca di risposte, chiede ai proprietari delle attività commerciali locali se dispongono di telecamera a circuito chiuso installate all'esterno dei loro negozi. Visionando i filmati di sorveglianza ottenuti sperano di vedere comparire l'auto di Alexis e dunque di scoprire chi la stava guidando. In effetti notano il veicolo che entra nel parcheggio del cinema intorno alle 22.30 della sera di domenica 4 agosto, quindi, il giorno dopo la scomparsa di Alexis. Nel filmato si scorge qualcuno che scende dall'auto. Gli investigatori quindi cercano di migliorare la risoluzione del video per analizzare meglio il conducente ma non ci riescono. Il filmato è in bianco e nero e molto sgranato. Siccome questa parte della registrazione risale alle 22.30 di sera, tutto intorno è buio e l'identità del guidatore resta un mistero. Bisogna tentare di scoprirla esaminando altri video ricavati dalle telecamere a circuito chiuso che magari riprendono il conducente in un altro punto. Quindi, gli agenti estendono la ricerca a 30 miglia nord e 30 miglia sud. Si procurano ulteriori filmati di sorveglianza e guardano ore e ore di riprese nel tentativo di individuare l'auto del padre di Alexis e di ottenere un'immagine migliore della persona alla guida. Mentre sono impegnati in questa attività altri investigatori passano al setaccio gli account social di Alexis. Come ripetuto, la ragazza aveva migliaia di followers e, come tutti sappiamo, internet può essere un territorio pericoloso. Sono tanti i casi in cui i predatori sono riusciti ad adescare le loro giovani vittime online per poi ucciderle al momento dell'incontro nel mondo reale. La polizia deve quindi accertarsi che questo orribile agguato non sia stato teso anche ad Alexis. Controllando i suoi messaggi sui social media, gli agenti scoprono che, proprio il giorno in cui Alexis è scomparsa, quindi il 3 agosto, la ragazza aveva accettato di incontrare un uomo con cui aveva chattato e i due si erano dati appuntamento a Lynchburg. Ma, quindi, Alexis voleva andare a Lynchburg per comprare l'extension? O lo scopo reale dell'uscita era vedere questa persona? Lui si chiama Michael Hendricks e con Alexis si era soltanto scambiato diversi messaggi senza mai incontrarla dal vivo. Questi messaggi però lasciano intuire che i due si piacevano, che erano attratti l'una dall'altro, quindi i detective si recano a Lynchburg per parlare con Michael. Lui conferma che lui e Alexis avevano in programma di incontrarsi proprio mentre la ragazza faceva gli acquisti preventivati, ma Alexis non si era mai presentata all'appuntamento. Michael spiega che era sparita, non l'aveva mai vista e nemmeno più sentita. Infatti, dopo le 18 di sabato 3 agosto, Alexis aveva smesso di mandargli messaggi. Michael, allora, aveva ipotizzato che lei avesse semplicemente cambiato idea decidendo di non volerlo più incontrare. Ben presto, gli investigatori appurano la validità della sua storia. Anche Michael ha un alibi solido, anche lui non è coinvolto nella scomparsa di Alexis. Così, i detective si ritrovano di nuovo al punto di partenza e a questo punto si sentono frustrati e un po' sconfitti. Ogni pista abbattuta conduce sempre a un vicolo cieco. L'unico indizio raccolto si ravvisa nel filmato della telecamera a circuito chiuso che mostra l'auto di Alexis mentre entra nel parcheggio del cinema. Ma, come detto, non si riesce a individuare l'identità del guidatore del veicolo. Quindi, per adesso, questo elemento non risulta particolarmente utile. Nel frattempo la famiglia di Alexis continua disperatamente a cercare risposte. Suo padre Troy si adopera al massimo per diffondere la notizia della scomparsa della ragazza. Si reca in ogni negozio della zona, attacca manifesti e distribuisce volantini che raffigurano il viso di Alexis e riportano le informazioni di contatto. I suoi cari pregano e sperano con tutto il cuore che la 17enne Alexis Murphy venga ritrovata sana e salva. Non passa molto tempo prima che la polizia individui ulteriori filmati che si rivelano preziosi per la risoluzione di questo caso. Il video di interesse per le indagini risale al giorno in cui Alexis è scomparsa e proviene da una stazione di servizio a Lovingston non troppo lontano dalla sua casa Shipman. Si trova nella direzione che Alexis avrebbe dovuto prendere per arrivare a Lynchburg. Questa stazione di servizio presso la quale Alexis aveva fatto il pieno di benzina è un luogo di ritrovo piuttosto popolare tra gli adolescenti della zona. Il dipendente che ha servito Alexis quel giorno afferma che lei sembrava tranquilla e serena tanto che gli aveva sorriso. Eppure visionando il filmato la famiglia della ragazza si preoccupa perché riesce a percepire un certo disagio in Alexis all'impressione che qualcosa non va. Così gli investigatori riesaminano attentamente il video che sembra corrispondere all'ultimo avvistamento di Alexis prima della sua scomparsa. Forse qualcuno che sostava in contemporanea con lei presso la stazione di servizio ha poi deciso di seguirla? La qualizzata dal proposito nota un uomo in particolare come vedete dal video sta uscendo dal negozio e tiene la porta aperta mentre Alexis entra nella stazione di servizio. Dunque gli investigatori chiedono all'impiegato se avesse notato qualche tipo di interazione tra Alexis e lo sconosciuto. Il dipendente spiega di aver visto Alexis e quest'uomo di mezza età conversare brevemente appena fuori dalla stazione di servizio. Quindi non era riuscito a ascoltare il loro discorso ma era stato colpito dal grosso tatuaggio raffigurante Duffy Duck che l'uomo aveva sul collo. Al termine di questa irrentracciabile conversazione le telecamere a circuito chiuso riprendono lo sconosciuto che si allontana con la sua Chevrolet poi pochi istanti dopo inquadrano la macchina di Alexis che guida nella stessa direzione quasi come se stesse seguendo la sua macchina. Ora gli investigatori hanno finalmente una nuova pista da approfondire per scoprire se quest'uomo si è coinvolto nella scomparsa di Alexis. Ricavano quindi una sua foto dal filmato del distributore di benzina e la mostrano alle persone della zona chiedendo se lo conoscano. Rivolgono la stessa domanda anche ai proprietari di diverse attività commerciali nei dintorni perché se l'uomo è un abitante del posto probabilmente lo riconosceranno. Un dipendente di un banco dei pegni della zona afferma di aver visto diverse volte quest'uomo di mezza età con il tatuaggio di Duffy Duck sul collo proprio nel suo negozio. Quando i detective controllano le riprese della telecamera al circuito chiuso dell'attività hanno conferma che si tratta dello stesso uomo avvistato fuori dalla stazione di servizio mentre parlava con Alexis. Lo sconosciuto lì al banco dei pegni aveva acquistato alcuni film. 45 minuti dopo aveva incontrato Alexis Murphy alla stazione di servizio. Ormai è passata circa una settimana dall'ultima volta in cui Alexis è stata vista ma finalmente gli investigatori hanno individuato un sospettato. L'uomo con il tatuaggio di Duffy Duck sul collo si chiama Randy Taylor ha 48 anni e vive a poco più di un miglio di distanza dalla stazione di servizio. Ha anche accumulato diversi precedenti penali tra cui furto furto con scasso e incendio doloso. Gli investigatori quindi si dirigono a casa sua. Randy vive in una piccola roulotte accanto alla Route 29 in una zona molto appartata circondata da una densa vegetazione di alberi e cespugli che la nascondono bene. I detective notano che parcheggiata vicino alla roulotte c'è la macchina che secondo loro Alexis aveva seguito dopo aver lasciato la stazione di servizio. Bussano alla porta Randy Taylor apre e si identifica. Gli investigatori allora gli chiedono di Alexis Murphy per caso la conosce? L'ha vista il giorno in cui è scomparsa? Randy risponde che non ha idea di chi sia ma gli investigatori sanno che sta indubbiamente mentendo. Infatti la telecamera di sorveglianza ha filmato entrambi alla stazione di servizio inoltre l'impiegato ha confermato di aver visto Alexis e Randy parlare. Dunque se Randy non ha nulla da nascondere perché non sta dicendo la verità? In virtù delle prove raccolte grazie alle riprese gli investigatori ottengono un mandato di perquisizione per la proprietà di Randy Taylor. Sperano che emerga una qualsiasi traccia che lo colleghi ad Alexis. Nel camper di Randy sul cuscino del suo letto la scientifica reperta un lungo capello nero che sembra proprio appartenere a una donna afroamericana. Poi sul tappeto rinviene un'unghia che sembra sia stata strappata durante una possibile lotta. Gli agenti individuano anche un gioiello con un piccolo diamante che all'inizio scambiano per un orecchino per poi stabilire che invece si tratta di un piercing per la zona della bocca e Alexis in effetti ha un piercing sopra il labbro destro. Quindi inviano queste tre prove il capello l'unghia e il piercing al laboratorio per eseguire il test del DNA. Qualora emergesse una corrispondenza con l'adolescente scomparsa sussisterebbe un collegamento concreto tra Randy Taylor e Alexis Murphy. In questo caso l'uomo risulterebbe coinvolto nella sua scomparsa in modo inequivocabile. Intanto mentre attendono i risultati gli agenti continuano a perquisire la proprietà del sospettato e l'area intorno alla sua rolotta. Hanno motivo di credere che il cellulare di Alexis sia finito da quelle parti perché come forse ricorderete avevano ricevuto il segnale di una cella telefonica collocata solo un miglio a nord dalla stazione di servizio e la stazione di servizio a sua volta è molto vicina al camper di Randy. Ancora una volta avvalendosi dei cani poliziotto in meno di un'ora i detective riescono a individuare un telefono in prossimità della casa di Randy e viene stabilito che questo cellulare appartiene proprio alla 17enne Alexis Murphy. Poi meno di due giorni dopo la trasmissione dei reperti al laboratorio arrivano i risultati. Il DNA rilevato grazie al capello all'unghia e al piercing rinvenuti corrisponde ad Alexis. Dunque i detective ora hanno parecchie prove contro Randy Taylor un uomo che aveva affermato di non averla mai nemmeno incontrata. Così vanno di nuovo a casa sua e lo interrogano per ben otto ore perché Randy continua a negare qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa di Alexis. Neanche quando tali prove gli vengono mostrate lui ammette la propria colpevolezza. Tuttavia agli investigatori poco importa che Randy non confessi proprio perché hanno prove sufficienti per arrestare il 48enne con l'accusa di rapimento. I detective credono che lui abbia già ucciso la sua giovane vittima ma non lo accusano ancora di omicidio perché temono di non riuscire a farlo condannare visto che mancano alcuni elementi inconfutabili. Non hanno neanche trovato il corpo di Alexis ma quantomeno con l'accusa di rapimento si sono assicurati che Randy rimanga in custodia mentre loro continuano a lavorare al caso. A questo punto Randy supportato dalla sua squadra di difesa decide di cambiare la propria versione dei fatti. Come detto finora lui aveva negato di aver mai visto Alexis ma ora si ricorda di averla incontrata. Avevano chiacchierato per un po' poi avevano incontrato un venditore di sostanze nero con i dreadlock che conosceva entrambi. Tutti e tre avevano deciso di appartarsi nella proprietà di Randy per effettuare l'acquisto delle sostanze. Secondo alcune fonti Randy ha addirittura fornito ai detective il nome del venditore di sostanze in questione un ragazzo che Alexis conosceva e questo lascia supporre che i difensori dell'indagato si siano impegnati per rendere questa nuova storia credibile. Il nome del giovane con i dreadlock è Damien Bradley. Randy afferma che lui Damien e Alexis si erano riuniti nella sua roulotte che avevano bevuto insieme qualche birra e che poi Damien e Alexis erano andati via insieme ridendo e scherzando. Questa sarebbe l'ultima volta in cui Randy ha visto Alexis in vita e sorridente. Randy come si vince sta implicando Damien Bradley ma i detective non credono alla sua nuova versione. Se fosse davvero successo quello che ha raccontato perché non spiegarlo fin dal primo interrogatorio quando invece ha mentito alla polizia dicendo di non conoscere Alexis intanto i detective devono ugualmente indagare anche su Damien Bradley che è un coetaneo di Alexis ma emerge che i due si conoscono soltanto virtualmente sono amici su Facebook ma non si sono mai frequentati. Damien lavora al McDonald's di Lovingston e qualche volta ha intravisto Alexis lì ma si scarando scambiati al massimo un paio di battute non sono mai stati amici intimi. Damien riconosce che Alexis è una ragazza bellissima e alcune persone hanno anche ipotizzato che i due avessero una cotta l'uno per l'altra ma come detto non si conoscevano bene. Comunque la polizia interrogando Damien Bradley gli chiede se avesse visto Alexis il giorno in cui era scomparsa e se fosse davvero andato al camper di Randy Taylor con lei. Damien in realtà è confuso nel sentire queste domande perché non solo non ha visto Alexis quel giorno ma non era nemmeno in zona al momento della sua scomparsa durante il weekend del 3-4 agosto Damien si trovava in Alabama con suo padre un fatto che i detective riescono a confermare dunque anche la sua versione è sorretta da un alibi solido la polizia preleva comunque il suo DNA ma questo non combacia con nessuna delle prove raccolte quindi Damien viene completamente scagionato chiaramente Damien è stato messo in ballo da Randy nel suo tentativo disperato di addossare la colpa a qualcun altro come gli avrà suggerito di fare la sua squadra di difesa per rafforzare la tesi contro Randy Taylor vengono condotte ulteriori indagini forensi e perquisizioni della sua proprietà ed emergono delle prove ancora più incriminanti sotto il divano sempre nel suo camper gli agenti trovano una maglietta pallottolata la stessa che Randy indossava il giorno della scomparsa di Alexis quando era entrato nel banco dei pegni e nella stazione di servizio nel distendere la maglietta la polizia individua un ciuffo di extension e alcune ciglia finte che Alexis aveva addosso sempre il 3 agosto come poi conferma l'esame del DNA inoltre la t-shirt nascosta presenta una macchia di sangue sul retro che viene altrettanto analizzata e anche in questo caso emerge la corrispondenza con il DNA di Alexis Murphy nella roulotte i detective rinvengono anche un album sul quale Randy aveva incollato i ritagli di un sacco di foto che ritraggono dei corpi di donne sui quali però aveva attaccato l'immagine del viso di un'altra ragazza il fatto è davvero inquietante anche perché la ragazza in questione è la figlia di uno dei suoi colleghi di certo Randy è ossessionato dal suo volto in ogni caso tutte le prove rinvenute nel camper evidenziano che c'era stata una violenta collottazione lì dentro Alexis aveva lottato nella speranza di proteggere la propria vita dall'attacco di Randy ma di certo lui era riuscito a ucciderla gli investigatori ora ne sono convinti più che mai le tracce di sangue della ragazza sulla maglietta di Randy Taylor lo testimoniano anche se il corpo della vittima non è ancora stato scoperto quindi la polizia ritiene di poter procedere con l'accusa di omicidio il 48enne Randy Taylor però si dichiara non colpevole quindi viene processato alla fine del maggio 2014 a meno di un anno dalla scomparsa di Alexis l'imputato viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e rapimento e condannato a due ergastoli Randy non ha mai rivelato dove si trova il cadavere di Alexis dunque nessuno sa cosa le fosse successo esattamente gli investigatori però ritengono plausibile la sequenza degli eventi che vi riporto ora Alexis e Randy si erano incontrati alla stazione di servizio e lui gli aveva detto che poteva venderle un po' di sostanza leggera così lei aveva accettato di seguirlo in direzione del suo camper come mostra il filmato della telecamera a circuito chiuso una volta arrivati a destinazione Randy aveva costretto Alexis a entrare nella roulotte dove aveva tentato di aggredirla intimamente l'assalto aveva scatenato una violenta colluttazione durante la quale Alexis aveva perso un'unghia il piercing sul labbro e una ciocca delle sue extension alla fine Randy era riuscito a sopraffarla e a ucciderla in un modo a tutti sconosciuto poi secondo i detettivi aveva nascosto il suo corpo nella roulotte per tutta la notte in preda al panico la notte successiva invece probabilmente aveva guidato fino ad arrivare a Charlottesville si era abilmente sbarazzato del corpo di Alexis e poi nel parcheggio del cinema aveva abbandonato la macchina della ragazza è così straziante che la famiglia di Alexis non possa dare un'adeguata a sepoltura ai suoi resti la ricerca del corpo continua nel corso degli anni intanto però il caso non può dirsi concluso perché accade qualcosa di inaspettato due mesi dopo la condanna di Randy Taylor alcune persone sostengono che in prigione sia finito l'uomo sbagliato questo perché nel 2014 un altro criminale della Virginia di nome Jesse Matthew è sospettato dell'omicidio di due adolescenti entrambe scomparse da Charlottesville Morgan Harrington uccisa nel 2009 e Hannah Graham assassinata proprio nel 2014 Jesse Matthew viene accusato e successivamente condannato per entrambi i delitti allora la squadra di difesa di Randy discute con i detective sulla possibilità che anche Alexis Murphy fosse una vittima di Jesse Matthew se ricordate Randy Taylor aveva descritto l'uomo che si era allontanato dal suo camper in compagnia di Alexis come un ragazzo dalla carnagione nera e con i dreadlock forse era proprio Jesse Matthew il giovane in questione il vero assassino quindi Randy Taylor è innocente i detective ovviamente indagano su questo potenziale legame tra Jesse Matthew e Alexis Murphy quindi prelevano il DNA del detenuto e lo confrontano con tutte le prove relative al caso Murphy ma non ottengono alcuna corrispondenza tutti gli elementi raccolti individuano Randy Taylor come l'unico colpevole della sparizione di Alexis ancora una volta Randy e la sua squadra di difesa hanno cercato di coinvolgere qualcun altro nel crimine ma il piano non ha funzionato allora Randy Taylor decide di concedere una confessione si siede con i pubblici ministeri per proporre un accordo dirà dove si trova il corpo di Alexis se loro accettano di ridurre le sue due condanne dall'ergastolo a vent'anni di reclusione a riguardo la famiglia di Alexis ha le idee ben chiare non permetterà mai e poi mai che questo accordo venga chiuso anche se sta ancora disperatamente cercando il corpo di Alexis non si può consentire a quest'uomo così pericoloso di essere rilasciato dopo soli vent'anni perché di certo una volta scarcerato lui colpirà di nuovo attirerà e ammazzerà un'altra giovane donna e i familiari di Alexis sono determinati a impedire che ciò accada nessun'altra famiglia deve vivere l'incubo in cui loro sono precipitati e nessun'altra ragazza deve correre il rischio di essere uccisa come la loro amata Alexis si può dire che in un certo senso i Murphy abbiano compiuto un sacrificio davvero sofferto hanno rinunciato a conoscere il nascondiglio del corpo di Alexis pur di preservare altre potenziali vittime dalle cattive intenzioni di un assassino la loro priorità è negare a Randy Taylor l'opportunità di uscire di prigione e penso che il loro gesto sia profondamente altruista dopo questo consulto con la famiglia di Alexis l'accordo viene quindi respinto dai pubblici ministeri e ad oggi Randy Taylor è ancora condannato a scontare due ergastoli dunque trascorrerà il resto della sua vita in prigione fortunatamente aggiungerei in molti compresa la polizia credono che Alexis non sia stata la sua unica vittima sospettano infatti che Randy sia responsabile anche della scomparsa di un'altra giovane donna la 19enne Samantha Clark è scomparsa nel 2010 dalla contea di Orange sempre in Virginia ed allora non è più stata vista e anche il suo corpo non è mai stato ritrovato inizialmente la polizia teorizzava che anche lei fosse stata uccisa da Jesse Matthews ma poi il criminale è stato escluso dal caso così la gente ha cominciato a sospettare proprio di Randy Taylor la scoperta sconcertante è che Randy era stato in contatto con Samantha proprio il giorno della sua scomparsa a quanto pare i due si conoscevano abbastanza bene perché nel 2010 all'epoca della scomparsa di Samantha vivevano entrambi nello stesso parcheggio per roulotte risalendo ai tabulati telefonici emerge che l'ultima telefonata effettuata da Samantha prima di sparire per sempre era indirizzata proprio a Randy Taylor al di là di questa telefonata però non sussistono delle prove concrete che colleghino Randy Taylor al caso di Samantha ciò nonostante in tanti credono che lui l'abbia uccisa e abbia nascosto il suo corpo da qualche parte proprio come avrebbe fatto con Alexis il caso di Samantha Clark dunque è tutto raperto intanto Randy Taylor tenta un appello contro la sua condanna ma la corte suprema della Virginia si rifiuta di riesaminare il suo caso poi finalmente il 3 dicembre del 2020 Randy Taylor confessa agli investigatori dove si trova il corpo di Alexis e li conduce a un incrocio a Lovingston vicino a Stage Bridge Road i resti della 17enne a distanza di 7 anni dalla sua morte vengono analizzati da un medico legale di Richmond che il 5 febbraio 2021 da conferma della loro appartenenza ad Alexis la sua famiglia in seguito rilascia la seguente dichiarazione siamo così grati per il continuo amore il sostegno e le preghiere per Alexis e per la nostra famiglia negli ultimi 7 anni dal 2013 siamo addolorati per la perdita di Alexis lei era l'appassionata di moda l'atleta e la burlona della nostra famiglia abbiamo avuto la fortuna di amarla per 17 anni e il suo ricordo continuerà a vivere in tutti noi la nostra famiglia desidera estendere un sentito ringraziamento a una sincera gratitudine ai cittadini della Contea di Nelson all'FBI alla polizia di stato della Virginia all'ufficio dello sceriffo della Contea di Nelson e a tutte le squadre di ricerca e soccorso per il vostro impegno e il sostegno incrollabile nel trovare Alexis tutti voi avete mantenuto la promessa fatta nel 2013 di riportare a casa Alexis questa indagine è chiusa di certo la famiglia di Alexis ha potuto finalmente darle la sepoltura dignitosa che lei meritava anche se purtroppo nulla potrà restituire quella vita briosa che stava vivendo e che un assassino senza scrupoli le ha ferocemente strappato questo ci porta alla fine del caso di oggi e quindi anche alla fine di questo video sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate di questo video e se per caso lo conoscevate Alexis era considerata viene detto insomma sul web che era una piccola influencer quindi diciamo che questo caso ha avuto molto impatto ne hanno parlato molto ecco diciamo così trovo sia assurdo che una ragazza muoia in questo modo è davvero triste davvero tanto triste e tra l'altro trovo assurdo che il suo assassino nonostante avesse due ergastoli da scontare non abbia detto per sette anni dove si trovasse il corpo deve essere stato terribile per gli amici e i parenti di Alexis e io spero che ora questa ragazza possa davvero riposare in pace sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni su questo caso quindi come al solito come vi dico sempre ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti